Oioho! Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergence, digami in tonight, e benvenuti in questo nuovo video. Ringrazio oggi Magic Corner, come si può dire ormai praticamente ogni giorno, per avermi spedito al day one... avermi dato più che altro la possibilità di aprire al day one Structure Deck Cyberattacco. Uno Structure Deck, ragazzi, devastante, ne abbiamo già parlato sul canale in precedenza, insomma. Oggi io, con il nuovo bellissimo taglio di capelli e taglio di barba, fatto giusto oggi, e con la felpa con scritto SF, ovvero sono figo, vado ad illustrarvi cosa c'è qui dentro. A ripetervi che cosa c'è qui dentro, e inoltre andiamo anche a montare una decklist da 3x di Structure Deck. Per quale motivo tutto in un video, ragazzi, perché ho già parlato di tutte queste carte nel Luigi Giornale, nel video del comprare o no. Sapete già che io consiglio l'acquisto di questo Structure tantissimo, quindi sarebbe un po' inutile andare a ripetere sempre le stesse cose. Quindi facciamo qualcosa di pratico, effettivamente, e andiamo veramente a montare la lista. Detto questo, comunque, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e passate qua sotto in descrizione per tutti i link vari ed eventuali per seguirci al di fuori della piattaforma di YouTube. Inoltre, avete anche, ovviamente, qua sotto il link a Magic Corner, con anche il mio codice sconto, Cars Unite, con il quale, inserendolo, avete il 10% di codice sconto sui prodotti sigillati e sulle carte singole, per quanto riguarda almeno Yu-Gi-Oh! Detto questo, Structure Deck Cyberattacco, qua abbiamo, come al solito, la lista di tutte le carte. Io, gli altri due che mi sono stati spediti da Magic Corner, li ho già aperti, abbiamo qui un bel malloppone di carte. Queste carte che adesso apriremo andranno finite qua dentro, perché subito dopo l'apertura ci sarà un bellissimo taglio. Per quale motivo? Perché devo studiarmi una lista, ragazzi, non ho mai giocato Cyber Drago, non ho mai giocato Cyber Dark. Studiarsi una lista, tre perdi, Structure Deck, che sia forte, non è semplice, insomma, mi farò aiutare da Simone. Detto questo, comunque, vabbè, insomma, classica introduzione, va a interruttare le carte, Zane Trusdale e Cyrus Trusdale. Andiamo però ad aprire, insomma, sappiamo tutti già abbastanza su questo mazzo. Structure Deck assolutamente devastante, fortissimo. Vi apro giusto un attimo il playmat di cartone, veramente molto, cioè di cartone, di carta, veramente molto, molto, molto bello, ce l'ho a dire. Ovviamente, qui dietro, come al solito, ci sono le più o meno prime strategie che si possono pensare quando aprite questo mazzo, insomma, vi consigliamo un attimino come giocare questo deck. Di base. E inoltre, vi presenta anche i set che sono usciti. Gli ultimi quattro set principali usciti, ovvero, alba della mazzosità, partecia fiammeggiante, iperattività fulmine e rabbia fantasma. Bene, io direi, facciamo da parte il playmat. Togliamo la classica targhettina di Yu-Gi-Oh! che blocca il mazzo e andiamo ad aprire il mazzo bello. Questa la mettiamo qui. Allora, prime cose da dire, ragazzi. Il mazzo è stato pensato principalmente per dare supporti a Cyber Dark, piuttosto che a Cyber Drago in generale. Cioè, Cyber Drago proprio. Quindi, sarà... I supporti sono più pensati per quel lato del mazzo che non ha supporti da molto. Qui da dietro, ovviamente, togliamo tutte le varie pubblicità di Duel Links, Legacy of the Duelist e alba della mazzosità. A me fa piacere pensare che a breve potrebbe esserci la pubblicità di Master Duel. Detto questo, comunque, carte. Chimera Cyber Oscura, Reame Cyber Oscuro, Drago Cyber Finale, insomma, un Cyber Drago Finale Ultra bellissimo. E Drago Finale Cyber Oscuro che è veramente fantastico. Veramente incredibile come carta. Molto, 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 molto bella. Poi, Orizzonte Cibernetico, Cyber Drago Hertz, Dispiegamento Fusione. È la carta del mazzo, ovvero in permanenza infinita. Uno, due, tre, sono... E quattro sono le ristampe. Uno, due, tre, quattro sono delle carte nuove. Che dire. Per le ristampe, assolutamente dieci e lode. Poi, successivamente, abbiamo Cyber in attaccamento, Cyber Drago. E qua incominciamo con i vari Cyber Draghi, ovvero Cyber Drago, Cyber Drago Zwei, Cyber Drago Dry e Cyber Drago Fear. Insieme a Nashster Nucleo. E basta, sostanzialmente, perché l'Hertz è qui ed è super. Io avrei, onestamente, ristampato Nashster Super e l'Hertz l'avrei scalato a common, dato che una stampa super già ce l'aveva. Però hanno deciso di fare così. In ogni caso, ci sta. Successivamente abbiamo Cyber Faros, Cyber Naga, Cyber Fenice, come supporti generici. E poi abbiamo tutti i Cyber Oscuri, ovvero Corno Cyber Oscuro, Ali Cyber Oscure, Scheletro Cyber Oscuro, Cannone Cyber Oscuro, Artiglio Cyber Oscuro. Questi sono tutti i mostri Cyber Oscuro. Cyber Dark, appunto. Oltre questo, abbiamo Langling, come carta ristampata generica, che sarebbe un buon supporto perché funziona sull'equipaggiamento, quindi ok. Jizukiru, il Kaiju serciabile di Cyber Drago. Gizime Korochi, il Serpentron Squarciacielo, che viene stampato common per la prima volta. E poi Dogra Burrasca, che finalmente viene ristampato. Questa mi servirà sicuramente in Necroztogma. Poi abbiamo Cyber Eterno, come magie, che è una carta nuova. Ed è una carta nuova, l'unica... Sì, l'unica che è rimasta come carta nuova. Poi, prossime ristampe. Cyber Impianto di Riparazione, Cyber Emergenza, Fusione Cyber Carico, Impatto Cyber Oscuro, Inferno Cyber Oscuro, e queste sono le carte di Archetipo. Poi abbiamo Fusione Futura, Fusione Targhetta, Duplicazione di Macchine, Rimozione di Limite. Quindi abbiamo Mori per andare a fare Fusione, Mori per estendere la giocata, e Mori per OTK. Oltre questo, abbiamo anche le altre due magie, che sono Vincolo di Potere e Fusione Sabra Carico. Assolutamente fortissime, soprattutto Vincolo di Potere, sulla quale questo mazzo si basa molto, c'è da dire. E poi abbiamo le trappole. Invasione Cyber Oscura, Rivoluzione Cyber Oscura, come trappole di Archetipo. Muro di Potere, Richiamo del Posteruto, Canalia Paleozoica, come trappole generiche per supportare la strategia del mazzo e andare a bloccare l'avversario. Hanno deciso di ristampare queste. E Overflow Cibernetico, assolutamente fortissima. Devastante sta carta, spacca cose, è tremenda. E poi le ultime tre fusioni, ovvero quelle che esistevano già, ovvero Drago Cyber Oscuro, Drago Cyber Oscurità e Drago Supremo Chimera Tech. Detto questo, ragazzi, abbiamo qui il mazzo appena aperto e abbiamo qui tutte le carte ordinate in due per. Io vi dico che per adesso abbiamo finito. E ci vediamo esattamente adesso. Allora, eccoci qua. Exadec Standard, cioè, ovvero, presi tutti e cinque i mostri e messi in tre per ciascuno. Quindi, tre Drago Finale Cyber Oscuro, tre Cyber Drago Finale, tre Draghi Cyber Oscuro, tre Draghi Cyber Oscurità e tre Draghi Supremo Chimera Tech. Letteralmente, i mostri migliori di questo Exadec e sui quali dobbiamo puntare di più sono 1 e 2. Questi tre funzionano come metodo per arrivare a questo qui, insomma. Ma, tranne lui, che è tipo B, questi due servono per evocare lui. Vabbè, lui è proprio una macchina da OTK in generale, quindi ok. Quindi, di tutto questo, l'obiettivo è evocare questi due al massimo. Quando brichiamo, ci ritroviamo a evocare questi qua di sotto. Quindi, non aspettatevi nulla di eccezionale con l'Alexadec. Normalmente che non abbiamo mostri per mandare i nostri link, Xyz. Main Deck, ringrazio Simone per avermi aiutato nella stesura di questo mazzo. C'era anche Fabio in chiamata nel frattempo. Allora, due pair di Cyber Drago. Partiamo con il reparto Cyber Drago. Due pair di Nashter, tre pair di Nucleo. Questo è il reparto Cyber Drago. Reparto molto stream in zito perché serve semplicemente ad estendere la giocata e ad avere dei modi per arrivare ad o evocare il Cyber Drago finale o ad equipaggiarlo. Quindi fanno l'estensione di giocata sostanzialmente. Cyber Drago è buono, ovviamente, anche in ottica going second. Il mazzo è stato buildato come ottica going second, appunto. Nashter si evoca special a gratis e ci manda cose al cesso. E inoltre è un target di machine duplication. Nucleo ci fa a dare cose in mano, soprattutto la Cyber Load, ed è target di machine duplication. È ok. Tutti e due con machine duplication ci fanno evocare i due Cyber Draghi dal mazzo. Potreste mettere il terzo, però rischia di briccare molto, ecco, mettiamola così. Reparto Severo Scuro. Tre cannoni, tre artigli, due chimere e monocopia di ali, corno e scheletro. Il problema del reparto Severo Scuro, ragazzi, è che comunque, nonostante i supporti, richiede comunque diverse evocazioni normal. Ed è un problema questa cosa, effettivamente. Motivo per il quale ali, corno e scheletro non li vogliamo vedere. Questi sono quelli che effettivamente ci fanno qualcosa se, appunto, ce li abbiamo in mano. Lui ci permette di scartarlo. In sostanza, lui, lo vediamo in mano? Ok, effetto, scartiamo, aggiungiamo lui. Effetto, scartiamo, aggiungiamo una magia Cyber Oscuro. Che è carina come cosa. Chimera ci permette di bandire il materiale cimitero e inoltre di serciare. Però, a differenza di cannone e artiglio, non si scarta per serciare, ma deve stare sul terreno. Quindi ci fa scartare. Però non è male. Abbiamo... ci maciniamo dei materiali al cimitero. Inoltre, abbiamo la possibilità di, comunque, arrivare a loro, mandandoli al cimitero e poi bandendoli, oppure, insomma, girando attorno al problema della normal. Abbiamo, purtroppo, soltanto una normal aggiuntiva, quindi non possiamo esagerare sui Cyber Oscuro. Per quanto riguarda le trappole, perché i mostri sono finiti qua, sono 18 mostri, 3 perdi in permanence, ce l'abbiamo perché non utilizzarla, e Mono Overflow. Si può fare una versione più control, più trappolosa, Going First, più Monkey, appunto, andando a mettere le canadie e le invasioni. Onestamente, il secondo overflow non penso ne valga la pena, perché, andando a mettere le canadie e le invasioni, andremmo a diminuire sui Saber Draghi. Perché, comunque, il Saber Rago finale ci riusciamo a equipaggiare senza problemi. Piccolo problema, andiamo a togliere consistenza. Però, secondo me, anche una versione con queste qua ci può anche stare. Ovviamente, più canadia che questa qua, perché questa ha bisogno di mandare al cimitero una carta equipaggiamento per funzionare e spaccare, quindi, eh. Vabbè, comunque, Overflow ci sta, e le impermanence troppo forti. Successivamente, Magie. Tre per di Cyber Emergenza. Funge per serciare tutto il reparto Cyber, insomma, Cyber Drago. E, boh, se giochiamo Cyber Draghi, Cyber Emergenza va per forza. Tre per di Reame, fortissima, ci dà normale aggiuntiva e ci fa letteralmente girare il mazzo. Inoltre, sua attivazione ci permette di aggiungere e quindi di serciare. Veramente, veramente fortissima. Grossissima come carta. Orizzonte, in tre per. Eravamo sempre in dubbio se metterne due o tre, in tutta onestà. Avevamo messo inizialmente l'uno per della terreno, però a me non convinceva. Quindi abbiamo optato per il tre per di Orizzonte. Comunque, è una carta che può servire. Manda al cesso, quindi... Ci serve, magari, per mandare al cesso i Cyber Dark che non vogliamo vedere in mano. Abbiamo tre brick nel mazzo, sì, ragazzi, sì. Tre brick nel mazzo. Eternal Cyber, secondo me è assolutamente fortissima. Fa sostanzialmente da Reborn per il nostro grossone o per i nostri mostri fusioni, nel caso lasciano il terreno. Perché li rivochiamo dal cimitero ignorando le sue condizioni di evocazione, perché non li mischieremo mai. Inoltre, fa la protezione, nel caso ce lo stiano per distruggere da effetto. Sì, da effetto o in battaglia anche. Quindi, ottima. Tre per di Machine Duplication, perché giocando i Cyber Draghi è obbligatoria. Mono, fusione Cyber Carico. Fortissima, poco da dire. Mono, impatto Cyber Oscuro. Ci permette di fare fusione mandando dal deck i materiali. Quindi, sostanzialmente, ci serve per evocare il Drago Severo Oscuro mandando dal deck i mostri che servono. Che è un body in più sul terreno, ci sta. E, infine, la carta con la quale dobbiamo fare OTK per eccellenza, ovvero vincolo di potere, è assolutamente searchabile. Quindi, monocopia, ci sta. Assolutamente. Ragazzi, questo era il mazzo in tre per Structure Deck. Il meglio che, secondo me, secondo le nostre menti malvagie, si riesce a creare. Perché questo mazzo, ragazzi, ovviamente con solo Structure Deck non vi dà la possibilità di avere un mazzo completo. Solo Structure Deck vi dà una base e poi, però, bisogna prendere le carte esterne che facciano girare il mazzo o qualche engine tipo... Non lo so, ne butto uno. Chaos! Mettiamola così. Detto questo, ragazzi, questo era lo Structure Deck, quindi Cyber Dark. Scrivetemi se comprerete questo prodotto, scrivetemi cosa ne pensate. Ovviamente io vi ho già detto che cosa ne pensavo nei video scorsi, insomma. È un ottimo prodotto, secondo me vale assolutamente la pena prenderlo soprattutto per avere questo tre per qui. Perché, ragazzi, sta carta sta sui 7-8 euro al momento e in tutta onestà, piuttosto che spendere 7 euro a copia per sta carta preferisco spenderne 12-15 per uno Structure Deck e quindi prendere il tre per di Structure, avere una base di Cyber Drago e di Cyber Dark più le impermanence che mi servono. Quindi, in tutta onestà, secondo me, ragazzi, il mazzo è veramente grandioso. Ma penso che comunque tutti lo sappiate perché, a quanto ho visto, è andato abbastanza a ruba. Detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo, come al solito, domani con il secondo nuovo video. E in futuro, nei prossimi giorni, più che in futuro, nei prossimi giorni, arriveranno un duello, sicuramente, con cappello, con cappello di paglia e non so se arriverà una Decklist 50 Special. Devo vedere perché è molto difficile modificare questo mazzo in modo da farlo rientrare nei 50 Special. Onestamente non credo perché è molto complicato. Però si può vedere se... Insomma, se mi viene qualche idea da tirare su per fare una lista 50 Special di questo mazzo, vi faccio sapere. Vedete il video, non è il caso. Oh no! Ciao, ragazzi!